a 90 minuti dal termine del campionato quasi tutto è stato definito con la vittoria della gioiese che ormai abbiamo festeggiato già da diverse settimane e anche le posizioni di rincazzo dovrebbero essere ormai stabilite la promosporto è sicuramente seconda perché è in vantaggio sullo scalea nello scontro diretto avendo i tre punti di vantaggio quindi al massimo potrebbe essere raggiunta ma non superata la stessa cosa potrebbe dirsi per il brancaleone che essendo in vantaggio sullo scalea lo scalea deve cercare almeno di raccogliere un punticino per rimanere almeno terzo perché altrimenti rischierebbe la terza posizione e quindi andrebbe a giocarsi il playoff in trasferta situazione complicata invece per la regione mediterranea che attualmente è quinta non farebbe il playoff perché ci sono i 10 punti di distacco dalla seconda in classifica la promosport e quindi deve cercare nell'ultima giornata di campionato di raccogliere qualche punticino il fatto sta che deve incontrare in casa il boccale un boccale che è alla ricerca spasmodica di punti per evitare la penultima posizione in classifica e quindi giocare il playoff contro la quintultima e proprio questo fatto ci fa ragionare anche sulla zona calda della classifica perché domenica prossima anzi per la precisione fra due domeniche perché la campionato farà sosta per il torneo delle regioni diciamo fra due domeniche il 30 esattamente di aprile c'è un gallico catona sessale che dovrebbe definire tutte le posizioni anche in coda alla classifica il questo incontro potrebbe favorire da una parte anche il soriano di mister scorrano che ha 36 punti potrebbe già considerarsi salvo anche se poi può prendere un punticino in casa nella propria per nella propria partita contro la promosport già come dicevamo prima sicura seconda e quindi non avere più l'assillo di doversi giocare il play out perché sarebbe rimanerebbe in sest'ultima posizione quindi questo gallico sessale definirà quale saranno la griglia se ci sarà griglia perché se invece il sersale non dovesse perdere contro il gallico pur rimanendo in quinta ultima posizione sarebbe salvo perché ci sono i 10 punti di distacco dalla squadra reggina appunto quindi un campionato che è come tutti gli anni si deve giocare in coda nell'ultima giornata di campionato ma che sono poche ormai le partite che dovranno essere attenzionate dal dai tifosi e anche dall'ufficio inchiesta della federazione